Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale Buona visione Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo dodicesimo episodio della Soulink Crazy Lock a Pokémon Rubino e Zaffiro Ovviamente come al solito qui con noi c'è Bella raga eccolo qui Si vola La Soulink si vola 130 Pisto ciclabile veramente Siamo al top Perfetto allora Luke che cosa faremo in questo episodio Allora ragazzi la nostra posizione qui ciclabile non è casuale infatti andremo finalmente verso destra verso appunto l'altra parte della regione verso forestopoli Però però ci sono un sacco di novità di team vero Joe Mamma mia ragazzi allora Guardiamole Abbiamo inserito nel team Gagnam Ivysaur Ossia Psyduck e l'Ivysaur del Rochet Abbiamo inserito Silio e Smoochum Ma ragazzi ci saranno in questo episodio non una Non due Non tre Ma quattro Cazzo Di evoluzioni Tre da Luke e una da me Quindi ragazzi 300 mi piace anche se è il mio canale Frega cazzi Ma sì ci siamo sicuramente Quattro evoluzioni voglio dire Poi un sacco di catture Dai Ci arriviamo Ci arriviamo Perfetto allora io sono già sull'altra sponda Luke Ci sono i due dell'intervista Che sono abbastanza male così Vabbè No Perché no Certo Raga Hashtag Luke Maledetto Nei commenti No vabbè Raga andiamo avanti Per creare un po' di Ah ok ragazzi Non ve l'ho detto Purtroppo alla fine dello scorso episodio C'è stato un problema con la mia ROM Nel senso che È crashata Banalmente È vero È vero E quindi ho dovuto rifare tutto Se vedete dei Pokémon In particolare gli ultimi due Con delle abilità diverse È dovuto al fatto che ho dovuto rifare tutto Ricatturando gli stessi Pokémon Nulla mi spiace Però non ho potuto fare nulla Non è colpa mia alla fin fine Posso testimoniare che la verità Raga Non c'è nessun cibo Cioè Luke Voglio dire letteralmente Premo il tasto Finisce di registrare E basta Crash anche la ROM Che bello È stato un tasto Che gli ha chiuso la ROM Ma cazzo è Rocco Mi avevo rimosso che c'era anche lui Sì qua c'è Rocco qua C'è anche tipo in horse Che Ah è vero che ti mandava da Latias poi Ok Luke A lei l'onore della cattura Ma è un percorso nuovo questo qua Sì sicuro Gio? Penso proprio di sì Vediamo un attimo 118 No 118 abbiamo già fatto la cattura Ma va Che cazzo dici Allora E poi dopo il 119 Sei sicuro che ci abbiamo pescato? Sì abbiamo pescato Ah ok bello Allora siamo dei rincoglioni Mi ricordi che ho avuto su dovuto E tu avevi preso qualcosa Ah sì Quell'Ebola fatta a poche Ok perfetto Sì sì mi ricordo Tra l'altro ragazzi Vorrei sottolineare Che il mio terrare È qualcosa di devastante E mi piace un sacco Cioè è davvero fortissimo Oh no Se può che ho preferito Di qualcuno Di mia conoscenza Aspetta L'hai trovato? No È tipo un allenatore Che me la mangiare Ah ok no Perché sennò avrei rosicato Per l'intera serie Cioè veramente Non te l'avevi fatto Non te l'avevi fatto notare Che sennò Allora Io ragazzi sto facendo un po' di switch Per fare evolvere Gagnam Comunque cioè Non è che sto impazzendo Invece io sto preferendo Ok ok Garido Ho fatto due danza a spada di fila Buttalo giù subito Giga sordogica sordimento Fermati Ok gli ho fatto fuoco fa Buono buono Già Buttalo giù Mi sta facendo un male boia Fermi Curatemi Figa ancora danza a spada Schiatta No ferma Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sembra più evoluzione Poliweel John Frog si sta evolvendo Attenzione Conoscendo John Frog Si evolve in Polited Perché se ne sbatte delle regole No No Non dirmelo No Non dirmelo Nidorino Ma dai Ho avuto Nidorina Fino all'altro ieri Ma dai Il mondo Ti odia Luke Sappio Mi serve una tappetta lunare Adesso no Perché l'avete fatto questo Perché mi avete fatto questo Che tristezza Cioè ti rendi Nidorino Ghiaccio rollo Oddio Riamo selvatico Che non mi fa fuggire Prova a farmi contatore Buttalo giù Muori tipo Devi schiattare Oddio Perché È È È È È È Raga Piccola informazione Di servizio Il mio carissimo pokemon Ha fallito per tre volte Di fila Foglie Lama Ok Inizio a fare la cattura Che sono finito Contro un chance Che mi fa dragodanza Oggi mi vogliono Arare Oddio Oddio Chi è Ciao Alisard Oh cazzo Ciao Alisard L'ho trovato La canella alba alta Questo se è buono Lo voglio Eh se lo prendi Attenzione perché Si sta per evolvere Gagnam Seconda evoluzione Dell'episodio Io raga Ho seriamente paura Di vedere che cosa Viene fuori Ed è Chi è Chi è Allora Non è buono È Caterpie Vabbè Si può voler Esatto Qui Cinque evoluzioni Raga Veramente Veramente Dovete Spaccare questo video Ok No raga Sul serio Questa merita Cattura Oddio Oddio Non ci credo Ninetales Vabbè Allora Se la catturiamo Ragazzi Che sarà molto difficile C'è però Coppia Non è vero È incredibile Perché l'avevo chiamato prima L'avevo chiamata prima Non è vero Madonna sta facendo Tanto fa un male boi A cascoff Vorrei Gio Gio Provo gran voce Sperando che No è tipo spettro Cristo madonna Zì è fortissimo Mi ha fatto falce cannone Mi sta uccidendo Non ci voglio credere Brutto colpo Ho paura Gio Se lo prendi E se io prendo Cosa Perché sarà molto difficile No raga Sul serio Sul serio Questo qua è il mio poco preferito L'ho preso L'hai preso Che cazzo E gli do il soprannome raga Di circostanza Che do i miei Ninetales O sia cursed Io sono abbastanza messo male Perché non mi sono catturato Sto cosa Dannazione No Luke Ti prego Sto facendo offendere Ragazzi E' un momento Bastante delicato Ok Continua a fare fossa Continua a fare fossa Sto cosa E non riesce A prenderlo In questa genna Con fossa Oh Joe Ho 15 megaball Ce la puoi fare Dai ce la puoi fare Dai Allora vediamo un po' Raga nel frattempo Io vado avanti Diciamo insomma Vado a affrontare un po' Di allenatori Per rievolvere ancora Il buon gagnam Che Esatto esatto Deve assolutamente Far l'evolve E sperare che io Riscratturare C'è Speriamo raga Perché davvero Sarebbe spettacolo Cazzo ultimo canto Brutto Ultimo canto Non ci vuole stare Sto infame Non devo crittare Con fendifoglia Se critto è veramente Incazzola No Luke Guarda che rischi Eh oh Eh ma Devo provarci Uh Ha crittato Però è ancora vivo In un ciclo Ha crittato Guarda che infame L'avevo visto Che crittava Eh sai Sapete ragazzi No Che noi Quando registriamo Ogni tanto Il crit proprio Lo sentiamo Che sta per arrivare Tipo Che sta salendo Catturato 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 Fantastico No Luke Questa roba È stata assurda Mamma mia Raga Questa coppia Assicurata Questa fissa Questa fissa Decideremo Se non ci schiata Nessuno In sto episodio Decidiamo Decidiamo Chi togliere Ma no Luke Veramente Non ho parole Mi sembra Troppo assurda Cioè Mi sembra Vero Fantastico Mi sembra assurda Sta roba Raga Raga Questo episodio Cioè Questo episodio Sono sette minuti Sette minuti Pochissimo Sette minuti Di episodio È già uno spettacolo Secondo me Poi fate voi E lui che deve ancora Rivolvere due Pokémon Raga Prima devo dare Spano Machiazza E voglio dare Abbastanza decente Più che altro Questa volta Perché Spano mi Sempre quelli I soliti Non mi va di chiamarlo Così Sinceramente Che boh Chiamano Con le lens Che ne so Potete chiamarlo Lens In effetti Caruccio Tributo A un signor Otto Che ho appena Sconfitto Nella Challenge Ok Mi l'ha mandato Nel pc Però Non vedevo Di vederlo Eh Raga Lo vedremo All'istituto Metodo Dovremmo Entrarci Quindi Tranchi Io faccio 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 Una piccola proposta Visto che io Ho beccato Nidorino Proporrei Magari Non lo so Di cambiare Coppia Però vedremo Ragazzi Nel prossimo episodio Aspetta Quando è che hai beccato Ah dall'evoluzione Aspetta Con chi è legato Con Nidorino Che si è voluto Da chi Da Smooth Da 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 Saur Che è diventato Da me Caterpie Vediamo Cosa diventa Caterpie Ragazzi Dipende Dipende È tutto Intricato Sì È un bordello Staserie L'ha creso Che inizia Piano E poi E poi esplode Poi al dodicesimo Siamo al dodicesimo Sì Siamo al dodicesimo Esplodio È così La creso Che è questo Dovete Dovete capire Che è questa Mamma mia Spettacolare Allora Allora Siamo quasi pronti Per la seconda Evoluzione Di Smucius Tu dove è che sei Luke Sempre in mezzo All'arbalto È anch'io Infatti Tipo Sto cercando Di No Vorrei affrontare Gli allenatori Per evolvere Caterpie Più che altro Però Quaticone lì Mi sa che lo balzo E affronto Minchia Likitung Che cancro Ok Io mando Chi posso mandare Aspetta Chi è che ti sei trovato davanti Ho l'arbitare 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 La gran pokemon L'arbitare No cioè Oddio Gran pokemon Nel senso È un buon pokemon È malvagio Ok Vediamo Oh giù Ci vuole Vi salvo Vai attenzione Attenzione ragazzi Guardate il roccia Dai 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 Con basken E si rivolge Si ma Da starter La starter Quanti capi Sai Dovremmo fare In questo episodio Si era Infatti I roccia E sappiate Che io E luke Stiamo scelerando In questo In questo momento In cui vedete Il video Probabilmente Stiamo scelerando Ok Oddio Abbiamo Abbiamo Un combas Che In styling Armato Lo ciocco Le ottero Praticamente Va bene Con molto Vero che Questa Qua No Che non mi cura La puttana No Non ti cura E inutile Praticamente Infatti Ok Io sono uscito Da quella zona L'iniziale Sono già Alla prossima Non so Purtroppo No Ma sto Arrivando Ok Io intanto Proseguo Quanti percorsi Ci sono Poi ancora Qua 119 E mi pare Che è tutto Quindi Forse C'è solamente 119 Io ho la bici Da cross Quindi se Sapessi Come Tu potessi Ancora Infatti Mi faccio Mi faccio Il giretto Quello bello Raga Ma ce la faccio Uscire da sta cavolo Di erba Non lo so Ditemelo Ok Qua Beh Bella la cenere Magica C'è solo un percorso C'è solo 119 Ah quindi basta Finite le catture Per questo episodio Ma oggi si Ma che cattura Soprattutto Cioè nel senso Penso che basta Per tutto l'episodio Questa qua C'è ancora Raga veramente C'è ancora Lo sbalzo di cuore Ogni tanto Io non ve lo dico Ma Tanta roba Quella cattura Mamma mia Mamma mia Assurdo Cioè no È stato proprio assurdo Perché lui Me lo chiama E mi fa Eh sì Rosica Rosica E tac Rosica Così Mamma mia Bellissimo Bellissimo E giustamente Blazikian Giusto per farti Un tributo Luke Grazie Blazikian Sì veramente Lo apprezzo moltissimo Ahia Ce la posso fare Buttarlo giù Ah come non è effetto Eh cazzo dimmelo Ero lì come un coglione Che gli facevo uovo bomba Se non aveva effetto È fallito Che strano Non ha più pipì Oh non ne sto imbroccando una Sul serio Ok ce la sto facendo Eh Ragazzi Terza musima della parte Per me Mucium questa volta Vediamo Attenzione vediamo un po' Che cosa diventa Questa parte ragazzi È una pazzia più assoluta Veramente Oh santo Dio No Parla No Raticate Raticate Vabbè Il mio line 1 della challenge Dai più o meno Non ci siamo lì Poteva andare peggio in teoria Ah sì allora Ci sono un po' Che con più cancro Mettiamola così Gio Gio Attenzione Questa è bella Questa è bella Abbiamo un Raticate Di tipo spettro No Questa ragazzi È Non ci No troppo 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 Questi episodi Un spettacolo Ragazzi Il Raticate di Gary È arrivato a me In questo momento Io C'è Questa ragazza L'ha creso Solamente Nella crazy Solo nella crazy Lo che potete vedere Ste robe È assurdo Vabbè All'altro me lo tengo Perché all'altro Che Oh figa Nido quindi Tipo Buio Spettro Cristo Muori Schiatta Schiatta Dio Ok Perfetto Gagnum Livello 36 Si sta per evolvere Anche il mio Cater Basta Con l'evoluzione Quanto ne abbiamo avute Sì ma questo Questo episodio Lo devo editare io E appunto No è vero Ragazzi Veramente Io No Il Diclet No Sei Stereo Si evolve Ancora Cosa sta succedendo Proviamoci un secondo A dire cosa sta succedendo Perché non si Quando Diclet Di tipo Volante Oh mio Dio Tutto bellissimo È bellissimo È bellissimo Ragazzi Dicati un po' Che non abbiamo mai visto Cioè nella sua interezza Di tipo Volante Vediamoci conto È bellissimo Abbiamo affrontato un avicoltore Quindi tutto torna È tutto bellissimo È tutto bellissimo Ok Ecco Potrebbe essere un problema Che questo mi manda urso E io che titolo metto In sto episodio Che titolo metto Eh Gio È un bordero Perché potessi mettere Chaisard Oppure le evoluzioni È tutto un bel Ho trovato il mio Pokémon preferito Ecco vedi YouTube dovrebbe avere I titoli infiniti Dove posso mettere tutto Tutto Invece Ma qua non avrò problemi Con i tag Con i tag No No vabbè Con i tag Qua sei praticamente Sei veramente Una botte di ferro No vabbè No vabbè No punto Guardalo 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 Ok Jump love Che mi ricorda Bei tempi Proprio Bei tempi Io Luke non so Sei presente Tutto l'episodio Che faccio Switch Con Diglett Barra Caterpie Barra Psyduck E finalmente Finalmente L'hai trovato Madonna Oddio raga Oddio Che roba Che roba Io non so più Cosa sto guardando In questo momento Cioè veramente Mamma mia E' una cosa Troppo assurda Questo episodio Ma C'era 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 No però Questo qua Penso sia Il video Più bello Che io abbia mai Registrato Personalmente Tra Nine Ten Social La coppia Dell'episodio Che coppia Il video Raga Obiettivamente Tra tutte le serie Che ho fatto In quanti anni Anche sono su youtube In tre anni di youtube Questo è il miglior video Che abbia mai fatto A livello di Proprio Quello che è successo Nel gioco E' un video Quello potente Io mi ricordo Di non avere la bici Quindi grande roccia Che non ha preso la bici E io c'ho quella da cross Io Comentamente snobbato Quello del bicicletto Ah cazzo Mi avvenenato Sto stronzo infame Home and merda Allora Mi faccio battere Don Kakuna Io penso di no Commentate nei commenti E dove Cosa pensate Che combini Il roccia Contro un Kakuna Commentate se vince Il roccia E tol Kakuna Commentate Si è la sua Calma Mi stava Perché pare Raticate Calma Come ti stava Aspetta Con chi è legato Raticate Consiglio Eh no Luke Cazzo Quello è buono Infatti Infatti anche Raticate È buono Perché avaggi fuoco Con calmamento Se in sidebar Riesco a trovare Uno sprite Di un Raticate Zombie Ti giuro che lo metto Lo metto Se lo trovo Laga lo metto Lo metto Penso ci sia Però se lo trovi Se lo trovo Lo metto Cioè veramente Ufficialmente Onyx Vai Gagnami Il tuo momento In questo episodio Ci mettiamo veramente Del peggio cosa Nella sidebar No 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 Troppo arena Di Onyx Ok Non mi faccio Troppo arena Ecco Questo qua è brutto Ok no Perfetto Calma calma Ce l'ho fatto Perfetto Buono Buono Oh caro Ok Ragazzi Stiamo Sfida in famiglia Mi dicono Sfida in famiglia Re contro regina Allora Vai seccolo sul posto Luke E continua a fammi dolce bacio Tre volte me l'ha fatto Ok perfetto Sconfitto bambino ghostwriter Io sto per arrivare Penso Sì raga Sono arrivato Penso all'istituto meteo Sapete A sto punto Michi e Luke A sto punto Vera la facciamo Nel prossimo episodio Per forza A voglia Ce la facciamo Nel prossimo episodio Sì ho capito Ma non riesco a battere Sto cosa Adesso Tirare una calmata Magari Tira una calmata Ok per concludere L'episodio Mi sa che arriva L'evoluzione finale Si spera Più che altro Di gagna Non ne posso più Io Penso se si muove In un pokemon Base di nuovo No Chi è Tarrare Me l'ha shotato Ninetales Chi era Chi era Ticate Luke Ah quindi è molto Sileo Sì Vuol dire che metteremo Chaisad Che tanto No Ma mi dispiace Un botto Mi ero Affezionatissimo No No Ma dai No Eh raga Dopo Tante gioie In questo episodio Abbiamo perso La ticket Quindi già Ho durato Molto poco Mi dicono La ticket Eh ma mi dispiace Un botto Cioè nel senso Mi ero proprio Mi piaceva Mi piaceva Era un po' Come mi piaceva No Quindi ragazzi Non vedremo Per molto Aspetto di Di atti Che si è giocato Veramai Di tipo Spettro Peccato E' già morto Oh cazzo Non riesco a buttare giù Ma io posso fuggire Infatti io Cioè l'ho perso Contro un selvatico Sono un coglione Non ci ho pensato Eh gioia E' la pittura di allenatori Purtroppo Merda Non ci vengono a fare Merda Invocato Involontariamente Ma l'hai detto Ma Non ci Non si Parla No Koga Ma Ma mi L'isciotta Tutti Sto Ninthes Ma che Oddio Che sta succedendo C'è Veramente Quindi Quindi Ho Molto poco Mi hai perso Sì Ma io Che non ho parole Ma Io Io Sì Io raga ho un gran Ninthes Oh si evolve Gagnon Cioè se fa ancora un altro Pokemon raga Nel prossimo episodio Ce ne sarà un altro Che devo fare No Non è vero Silkun Silkun Non è vero Non è vero Questo episodio E da mollare Neanche Cascun E' veramente da mollare Ho fatto su una recuta Io ho tanto Per tanto parenti che ci sono Ho fatto una recuta Il timido Per farle rovere il Pokemon Oh mio dio Ok Dove entrare dentro Vado a curarmi A questo punto Sta piovendo Nell'impianto Meteo Cosa succede Ma come aspetta In che senso De'altra battaglia Piove Ma sei Ah ma no Ma guarda Che salta Avranno messo Siccità Non te ne sei Pioggia danza Non te ne sei Lì Non me ne sono Ma comunque Accordi E' fisso No ma mi dispiace Oh coga Va bene C'è nel senso Ok ciao E' stato un piacere Ma no Terrare mi era affezionato Mi dispiace Non è possibile Sono dispiaciutissimo Allora inizio Mettere in squadra Ninthes Che sinceramente Se voglio sapere Cosa Quanto è forte Sto pokemon Siamo con 4 copie Ma metteremo Ciao 88 80 Fuoco buio Beh Abilità Acqua 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 Aiuto Tra l'altro Fuoco buio Abilità Acqua Aiuto E cazzo C'aveva la stab Sgranocchio Con 88 Di attacco speciale Questo è un gran pokemon Ok jo Per finire Con basco In se evolve Non ho parole E dopo questa Veramente basta Perché non ce la faccio Sì no Perché io A questo episodio qua Non uscirà Perché ci metterò Troppo a editarlo Va bene No Cazzo Snizzle Beh Non è brutto Però Vuole imparare calcio rullo Intanto Però non è affatto male Calcio rullo Dipende dalle statistiche Soprattutto perché Dragodanza Quindi calcio rullo È molto buono Dipende tanto dalle statistiche Alla fine Allora Te lo dico subito Snizzle di tipo Di tipo acqua Dio santo Aia Carta vetro Oddio Cosa 111 di attacco Con dragodanza Aia Ok Questo deve A 20 di difesa Come proprio Snizzle qua Siamo proprio A Snizzle Ok Non è Non è brutto Poteva andare meglio In teoria Però vabbè Allora Ultima cosa jo Hai messo in squadra Nantes Sì ma in sidebar Appare nel tuo Non ci penso neanche Ok Fini ciasa di tipo Oh mio dio Ciasa di tipo spettro ghiaccio È un frost dust Urk giuda Allora Con le statistiche abbastanza 18 di velocità Bene Con le statistiche abbastanza 18 di velocità Con Perforbecco Turbo sabbia Baratto E fossa Vabbè Ci si può lavorare Un ciasa Ci si può lavorare sicuramente Lo metto in team Sì sì Come nantes Ragazzi C'è veramente Io Non so cosa dire Luke Se trovate degli aggettivi Nei commenti Per descrivere questo episodio Perché non ho parole Assurdo Pazzesco La folliera E nulla Mi raccomando Se il video vi è piaciuto Vi invitiamo a lasciare Vi deve essere piaciuto Perché cazzo C'è Spettacolare Lasciate un mi piace Commentate Iscrivetevi al canale Rispondete alla domanda del giorno Passate ai social In descrizione Per rimanere sempre aggiornati Sull'attività del canale Luke Poi Direi che hai detto Praticamente tutto No Perché ci siamo dimenticati La campanella Ecco Ecco La campanella Mi raccomando Per ricevere i feed E noi ci becchiamo In un prossimo video Bye bye ragazzi Sì